Con Fartigianato, Imprese Molise si è riorganizzata sul territorio per ridare forza al settore. Romolo Dorazio, da tre anni alla guida, ha fatto il punto sui problemi e le esigenze del comparto. Questo è il mio terzo anno di presidenza appena iniziato e stiamo lavorando da tre anni a rivitalizzare l'associazione. Questo per due motivi. Uno perché riteniamo che ci sia assolutamente bisogno di operatività sul territorio e aiuto concreto alle imprese. Due per dialogare anche maggiormente con le istituzioni rappresentando gli interessi dei nostri associati. Per cui in questi anni abbiamo ridato impulso all'attività sui territori, abbiamo incontrato i nostri associati, abbiamo tenuto degli incontri sui vari territori per ascoltare i bisogni delle categorie. Noi come Sara aggruppiamo non più soltanto imprese artigiane ma micro e piccole imprese di ogni categoria e quindi il nostro campo di azione si sta allargando in questi anni. L'artigianato ha caratterizzato sempre la nostra regione. Occorre guardare al presente e al futuro con idee chiare e concretezza. Di questo è convinto Dorazio e Confartigianato Imprese Molise sta portando avanti dei progetti. Essenzialmente i bisogni primari di queste aziende sono in assoluto il primo è la formazione. Mancano le nuove leve dell'artigianato. Molto spesso alcuni messieri si stanno perdendo e quindi quello che ci chiedono i nostri associati è formazione. Tant'è vero che stiamo lavorando con il nazionale, abbiamo appena chiuso due progetti di formazione sulla regione soffrendo di fondi di fondo artigianato e quindi stiamo drenando risorse dal nazionale sul locale per dare operatività a questa formazione. Quindi questo è il primo aspetto in assoluto per non disperdere il patrimonio dell'artigianalità in Molise. La seconda cosa della quale hanno bisogno è finanza, quindi per poter dare vita a progetti di digitalizzazione, internazionalizzazione hanno bisogno di risorse, quindi una maggiore vicinanza delle istituzioni bancarie o della finanziaria regionale che possa dare garanzie per ottenere fiti bancari.